Ciao e bentornato sul canale. Oggi introdurremo una funzione molto importante all'interno della cat page, ossia la possibilità di prendere una clip e andarla a inserire automaticamente in un punto di taglio in timeline, ossia tra due clip che sono già posizionate in timeline. Per farlo introdurremo il concetto di smart edit. Prima di proseguire ti invito, se non l'hai già fatto, a cliccare sul pulsante iscriviti sulla destra e sulla campanella a fianco per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Quindi smart edit su cat page. Vediamo come andare a inserire una selezione di una clip in un punto di taglio già presente all'interno della timeline. Allora da questo punto di vista la cat page ci dà veramente una grossa mano perché gli strumenti per farlo sono veramente rapidissimi. Ne vediamo due. Il primo è semplicemente un drag and drop, cioè io prendo la mia clip, la sposto sul punto di taglio, lascio e automaticamente la selezione della mia clip viene inserita sul punto di taglio. Io adesso l'ho fatto sulla parte alta della timeline. Lo posso benissimo fare anche sulla parte bassa, cioè vado a selezionare la mia clip, la porto sul punto di taglio, lascio e questa viene immediatamente posizionata sul punto di taglio. Questo metodo è veramente velocissimo, ma qualcuno di voi potrebbe dire sì ma mi devo posizionare per bene lì, per rischio di sbagliare. Non è poi così comodo. Esiste un altro metodo molto più comodo di questo e molto più preciso di questo. Il metodo sfrutta un bottone presente all'interno del pannello degli strumenti della cat page. Lo puoi trovare sulla barra degli strumenti dell'ultimo a sinistra, di fianco al pulsante di append. Vediamo come funziona. Ritorniamo nella nostra situazione iniziale in cui ho semplicemente due clip accodate. Prendo la mia clip che voglio inserire nel punto di taglio. In questo caso devo semplicemente prendere l'indicatore del tempo e posizionarmi vicino al punto di taglio. Deve essere il punto di taglio più vicino all'indicatore del tempo. Una volta che mi sono posizionato nei pressi del taglio, ma posso essere a destra o a sinistra dove mi pare, vado a cliccare sul pulsante di Smart Insert e in automatico la clip viene inserita nel punto di taglio più vicino. Quindi Resolve trova il punto di taglio e sa già lì che deve fare un inserimento. Attenzione, è un insert, come già dice il nome, non è una sovrascrittura. In pratica non viene cancellato niente, viene aperto un varco e all'interno viene inserito quella perzione di clip che ho selezionato. Ma la domanda che mi potreste fare ora è questa, ma va bene, adesso siamo sicuri che il taglio più vicino è quello. In effetti non ce ne sono altri nei paraggi, ma se avessi un montaggio molto serrato con tanti tagli, come faccio a essere sicuro che il prossimo Smart Insert verrà fatto esattamente in quel taglio lì? C'è un indicatore che si chiama appunto Smart Indicator ed è rappresentato da questa freccia bianca che punta verso il basso. Questa freccia bianca sarà presente in un solo taglio su tutta la timeline e rappresenta il taglio sul quale verrà effettuato il prossimo Smart Insert. In questo caso, come potrai vedere, lo Smart Indicator rappresenta appunto il taglio che desideravo, ma se vado verso destra ecco che lo Smart Indicator andrà sul taglio finale, cioè sulla coda della clip ed è qui che verrà effettuato lo Smart Insert. Infatti se vado a cliccare su Smart Insert ecco che la mia clip verrà messa in coda a tutte le altre. Questo metodo è veramente rapidissimo, specialmente quando hai pochissimo tempo per fare il montaggio. Supponiamo che tu stia lavorando in Source Tape, se non sai cos'è il Source Tape ti metto in descrizione il link al tutorial relativo oppure puoi cliccare sulla i in alto alla tua destra per aprire il relativo tutorial. Entriamo in modalità Source Tape cliccando sul relativo bottone in alto. Supponiamo di aver fatto già una selezione che era questa, ma io posso andare a cercare un'altra clip. Supponiamo questa, premo I, poi vado a prendermi una coda O. Una volta che l'ho identificata vado a posizionarmi sul taglio che mi interessa. Supponiamo questa, lo Smart Indicator è corretto, premo Smart Insert e la mia clip viene inserita esattamente nel punto che desideravo. Ritorno nel Source Tape. Per farlo esiste uno shortcut da tastiera che switcha all'interno del pannello viewer tra il Source Tape o la Source Clip e la timeline. Dico Source Tape o Source Clip perché dipende se il mio caso sono partito dal Source Tape, quindi io posso premere il pulsante Q per switchare nel Source Tape. In pratica la Q va a emulare questa operazione, cioè clicco sulla timeline o clicco sul Source Tape. Quindi visualizzo nel viewer o il Source Tape oppure la timeline. Se non sono partito dal Source Tape, ma sono partito da un clip, quindi sono in modalità Source Clip, quindi da una di queste, premendo Q lo switch non sarà tra Source Source Tape e timeline, ma sarà tra Source Clip e timeline. Quindi visualizzo la clip non Source Tape e la timeline. Bene, ritorniamo in Source Tape, vado a prendermi un'altra porzione di clip, suppongo questa, premendo O e suppongo di andarla a mettere all'inizio del mio montaggio. Quindi vado all'inizio del montaggio, magari uso la timeline superiore, mi posiziono direttamente all'inizio, qui ho già lo Smart Indicator a posto, vado a prendere Smart Insert e la vado a inserire direttamente all'inizio. Poi ritorno nel mio Source Tape premendo Q, vado a prendermi un'altra porzione di clip, supponiamo questa, vado un po' avanti e vado a trovarmi un punto di taglio che può andare bene per inserire questa porzione. Supponiamo di metterla qui, non c'è bisogno di andare nel punto preciso, mi posiziono vicino, Smart Indicator è nel punto giusto, vado a premere Smart Insert ed ecco la mia timeline. Adesso potrai controllare il tuo montaggio magari navigando velocemente sulla tua timeline. Puoi ben capire che anche se hai un Source Tape composto da tantissime clip, puoi facilmente costruire un tuo montaggio di base, quindi una prima bozza del tuo montaggio, andando a utilizzare unicamente la funzione di Source Tape e di Smart Insert. Se hai dei dubbi su questa funzione importantissima all'interno della cat page, mi raccomando fai la tua domanda all'interno della sezione commenti di questo video. E noi ci vediamo domani perché andremo a parlare di una funzionalità davvero interessante all'interno sempre della cat page. Grazie a tutti. Grazie a tutti.